Mi chiamo Gabri Costa, io adesso vi leggo tutti gli incarichi del primo episodio di Sly3 l'Onore dei Ladri, il primo episodio paura lirica che si svolge a Venezia, io dico i titoli e la descrizione, però dovete ascoltarmi ben attentamente, dovete concentrarvi perché se le volete rifare tutte e divertirvi, ascoltate e poi fate come volete. Quartier generale della polizia, entra nel quartier generale della polizia per cercare Marley, se è in cella dovrai tirarlo fuori. Foto di Ottavio, ottieni una prova fotografica che colleghi Don Ottavio ai problemi di Catrana a Venezia. In profondità, cerca informazioni sui computer di Ottavio nel teatro lirico, individua le misure di sicurezza con gli occhiali e ottimizzazione di campo. Che sarebbero occhiali 3D ma in questa OnSol non funzionano, in questa PS3. Peccato, si faceva la PS2. In seguimento nel canale, Ottavio vuole che Carmelita sia eliminata, ruba un motoscafo e neutralizza la banda delle vipere blu in gondola. Guerra per il territorio, elimina le forze di sicurezza extra di Ottavio spingendo Carmelita e i suoi mercenari ad affrontare i ragazzi di Vincenetti. Palla di Catrana. Convinci Murray a usare la sua forma di palla aborigina per distruggere, per il bene dell'ambiente, le riserve di Catrana. Corri e fai esplodere. Distruggi le pubblicità dello spettacolo di Ottavio piazzando degli esplosivi sui punti di ancoraggio dei palloni pubblicitari. Sly. Turno di guardia. Ruba le mappe della pompa principale di Catrana. Sly si occupa del turno di guardia e Bentley scassina le casse forti. Operazione basta Catrana. È l'ultimo, attenti. L'ultimo incario. Distruggi le pompe di Catrana nel teatro lirico. Bentley distrae Ottavio con un duello canoro per impossessarsi del dispositivo di distruzione. Se questa video recensione vi è piaciuta mettete un mi piace, iscrivetevi nel mio canale e commentate. Altri video vi aspettano. Ciao ragazzi. Ciao da Gabriel Oster.